Si avvicina sempre più il Natale e così si cominciano a intravedere i primi addobbi natalizi. Le strade, i negozi e le case si tingono dei colori del Natale e si percepisce nell'aria un'atmosfera di festa. C'è chi inizia già a pensare ai regali per amici e parenti e chi invece aspetta gli ultimi giorni per ultimare gli acquisti. Un periodo questo in cui dunque ci si dovrebbe preparare a spendere un po' di più. Eppure anche quest'anno la difficile situazione economica influirà sulle spese degli italiani e anche dei nisseni. Diciamo che viene registrata dalla fede al consumatorio a livello nazionale una lievissima crescita. Però nel nostro territorio si può dire che non si registra tale in quanto sappiamo la crisi che morde e la disoccupazione che dilaga. Comunque quei pochi soldi, diciamo così, saranno destinati per i beni di prima necessità. Anche i regali saranno regali utili, abbigliamento, calzature. Diciamo che ci si può accontentare di quello che magari generalmente può essere qualcosa di abituale. E così invece quest'anno, anche purtroppo quest'anno, non è così. La tredicesima per l'85% sarà sicuramente spesa per pagare mutui, date e bollette varie e assicurazione di macchine. Purtroppo il trend è questo. Quello che rimane della tredicesima verrà speso sicuramente in beni di prima necessità. Pur facendo dei regali in abbigliamento, calzature, magari libri. Ma quello dove l'italiano non si risparmia, soprattutto anche noi nisseni, è quello che riguarda il genere alimentare. Il cena o no sicuramente non soffrirà di questa crisi. Una raccomandazione bisogna fare ai nostri cittadini e soprattutto ai consumatori. Sappiamo che siamo tutti a caccia di occasioni per poter risparmiare. E molti di noi ci rivolgiamo anche ai siti online. Siamo attenti alle truffe ed eventualmente la fede del consumatore è a vostra disposizione per difendere il diritto del cittadino ed è soprattutto del consumatore.